buongiorno cari amico da paolo come potete guardare ho portato due pomodori sono una frutta anche una verdura sono ricchi in minerali proteina antiossidanti e il potasio e lo meglio che ti aiuta a mantenere la presione arterial a tope e altri beneficio il giorno di oggi vamos fare abdominali con il pomodoro si voi avere la pancia fina firme per il estate e sempre che meglio che fare questo esercizio abdominali con il pomodoro le ricordo a cuestas abdominali con il pomodoro dobbiamo avivare una sana e corretta alimentazione fare un pochino di corsa caminare montare bicicleta fare tutto notare così complementare questo esercizio con abdominali con un lavoro cardio ok che fare 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 10 esercizio del abdomi voy a utilizar mi timer 30 segundos di lavoro con 10 esercizio di recupero si saranno esercizio facile altre difficili per lo importante raggiungir nuestros obiettivo abdominales con il pomodoro ok se inizia ok 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 se inizia vamos a mettere qui nel nostro timer importante il pomodoro non lo podemos l'achare a terra non lo podemos l'achare a terra evitare l'achandolo a terra ricco questo pomodoro sembra una sembrano una mela una vela guarda ok vamos a fare come detto prima 12 esercizio 13 esercizio 30 segundos con 10 esercizio di recupero ok vamos a iniziare a esdraiarnos qua a esdraiarnos ok mettiamo qua l'acqua ok perfetto perfetto preparate preparate con il timer e con il pomodoro ok 3 2 1 via ok 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 falla falla tecnica me preparo venga vamos a mettere il telefono il telefono il telefono sotto perché s'il no se me escalda e se me fa male ok 3 2 1 via 4 3 2 1 0 nostro primo ejercicio con il pomodoro di fronte si 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 di fronte senza saltare il piede questo va questo va questo va questo va questo va 1, 2, questo, mi aiuto con le mani me tiro indietro, comprimo il abdomen, punta di piedi abdominali con il pomodoro ok ok adesso vamos a fare queste laterale, 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 posizione, 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 va, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 che va a fare? vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar di nuovo il ejercicio, sempre il pomodoro non deve tocare a terra va, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 nuestro próximo ejercicio, vamos a fare isometria, vamos a alzar un piedi, un piedi, solo un piedi, solo uno parlo qua tiro indietro, tiro indietro, comprimo il abdomen, guardo un punto fiso ok, respiro profundo, respiro profundo, me preparo, cambio cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, cambio cambio de gamba, cambio, cambio dopo di questo andiamo con plan ok nuestro próximo ejercicio, vamos a fare questo è il plan, 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 plan plan passo il pomodoro con le mani, guarda passo il pomodoro me concentro beso e lavoro con le mani, le mani, lo mani ok, perfetto che siamo a fare, salgo e tiro, salgo, tiro, 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 si, va, tiro puño, tiro puño, tiro puño, tiro, 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 ok, ok, se sente no, abdominales al pomodoro, vamos a fare un pochino, el montan clive, el montan clive, voy a tirar los pomodoro, montan clive, vado dietro, vado dietro, vado dietro, vado avante, vado dietro, 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 avante, dietro, avante, avante, ok prendo i pomodori, prendo i pomodori che voglio fare? abri il braccio, abri il braccio, solo le gambe guarda, questo, solo questo solo questo lentamente si, se sente la gamba, se sente la gamba, se sente, se sente anche il abdomi, abdominali per il pomodoro si, 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 ok, 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 adesso, sempre il exceso esercizio, sempre il exceso esercizio facciamo un pochino di circolo, circolo, torno, 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 me fermo, me fermo, me fermo facciamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, nuovamente circolo abdominali con il pomodoro ok, ok, adesso, 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 il prossimo, il prossimo, il prossimo, il prossimo, guarda, il prossimo avro, avro chiudo, avro chiudo, avro chiudo, questo, punta, salgo, avro chiudo, uno, due, salgo, nuovamente, va, uno, due, salgo, esendo, 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 va, uno, due, salgo, esendo, esendo, uno, due, tre, salgo ok, nostro prossimo, vamos a fare russiand, russiand twist, russiand twist, russiand twist, vamos a tirar il pomodoro lato a lato ok, ok ok ok, si ok, adesso, continua, 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 va a me lo posso fare con media terra gira, gira, gira gira, gira gira, gira si gira 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 ah 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 Adovidale con il pomodoro, adovidale con il pomodoro quando questi esercizi non c'è nessun miracolo, si tu puoi raggiungere tutti i suoi obiettivi deve essere costante e disciplinato, se no, non raggiunge niente in questa vita, anche importante la volla, la volla, la volla, tu questi esercizi lo puoi repetire di due a tre volte per settimana per esempio, ho ripeto una volta, tu lo fai due a tre, grazie a tutti, le persone che hanno guardato questo esercizio abdovidare con il pomodoro, io adesso me lo mangio ricco in vitaminas, minerali, adiosidate, adiosidate, al potasio, te va a aiutar a mantenere la presione, la presione arterial bella, firme, tutto posto, grazie veramente a tutte le persone, di ancora non ti sei inscrito iscriviti adesso, di cuore, paolo molto buono, molto buono molto buono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti